bella a tutti ragazzi qui con un nuovo video oggi vi farò vedere un vpn che avevo utilizzato molto tempo fa soltanto che poi ha avuto alcuni problemi e quindi l'hanno cacciato però finalmente adesso è tornato quindi oggi andremo a vedere se funziona realmente quando lo utilizzavo quindi basta che andate nel link che vi lascio in descrizione un attimo ragazzi che si carica adesso dovete andare a cliccare su a consenti adesso clicca su download the adblocking vpn profile consenti chiudi nulla adesso andiamo su impostazioni profilo scaricato installa adesso ti andrà a mettere la password del vostro telefono quindi adesso andiamo a cliccare su installa installa fine e adesso per far funzionare realmente il vpn andiamo su info andiamo sotto andiamo su attendibilità certificati e adesso andiamo a cliccare su a consenti quindi continua adesso il vpn dovrebbe funzionare quindi non dovrebbe esserci più pubblicità su tik tok youtube spotify nene su tik tok non proviamo invece su youtube adesso andiamo a vedere proviamo con questo perché all'inizio non c'è andiamo con questo ancora non c'è neanche con questo neanche con questo siamo già a 4 che non c'è nessuna pubblicità all'inizio e adesso andiamo con questo neanche e vediamo quest'ultimo così poi possiamo finire comunque già vi devo dire che questo VPN ovviamente non è uno dei migliori perché già avete visto su TikTok ho fatto vedere già un po' di pubblicità però comunque abbiamo visto adesso su YouTube con altri 6 video che non c'era quindi ci può stare come VPN cioè che è comunque un profilo di terze parti che non si può scaricare né dall'App Store quindi ragazzi io come sempre vi ricordo di lasciare un bel like iscrivervi al canale e noi ci vediamo con tanti altri video bella grazie a tutti